Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo il trailer del film A Natale mi sposo, subito dopo le news di oggi. E' il momento in cui i due anime si uniscono per... Una famiglia? Un conto corrente, papà. La donna più invecchia, più buona. Mi chiami tu, sentiero a cellulare, amore mio? Sì, ti chiamo. Due colpetti di Kamasutra. Eh, quello che ci voleva. Ma sai che quella da piatti è un tipo particolare? Ma anche il mostro... Lo mangialai, pronti? Ma come si permette? Guardi che noi qui a St. Moritz siamo abituati a cose molto schifre. Panna d'ascurazioni! Sì! Tra moglie e marito devi mettere il dito. Ma prima. Sai, io sono un ragazzo semplice, dall'animo gentile. Ma una domanda te la voglio fare, Patti. Vai, scopà! Dimmi la verità, ti piacciono un po'? Sei troppo. Troppo? Troppo soda! Ok? Pronto, chi è che se ficcia? Se vieni qui, le faccio assaggiare la sacciccia! Il finale è disturbata la linea. Pazzo la calotta, la lunetta. La nonna di Heidi. San Moritz. A noi ti dobbiamo chiedere una cosa molto importante. Eh, che fa la dieta oggi? S'il vous plait. La festa della Dia Nubilat. Dov'è? Azzuronzo, ma non ci vedi? Sta qua a pezza. Mettilo in fuda, mamma. Il lecca-lecca non lo voglio fare. Ve lo dico subito. Il lecca-lecca non è finito. E cos'è? Il bastoncino. Non è finito. Non è finito. Signora, guardi com'è bello. È un porcelino d'India. Guardi! Il 26 novembre al cinema. È già Natale. Passaparola. Il 26 novembre al Natale Mi Sposo. Il primo cinepanettone diretto, ovviamente interpretato, da Massimo Boldi. Ambientato a Sam Moritz, il film vanta un cast davvero eccezionale. Vincenzo Salemme, Elisabetta Canalis, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Enzo Salvi e addirittura due ex concorrenti del Grande Fratello, Cristina Del Basso e Jonathan. Dopo Black Swan, nata di Portman, torna con una commedia riverente, scritta di suo pugno insieme alla ex compagna di college Laura Moses. La pellicola si intitolerà Bring Your Own e racconterà la storia di due amiche ultraventenni sfortunati in amore, che decidono di organizzare una festa per trovare lo scappolo giusto. Accanto alla Portman, sembra che nel cast possa esserci Anne Hathaway. E per oggi è tutto, arrivederci d'anteprima cinema.